ciao a tutti amici di saper fare eccoci di nuovo qui per fare diciamo un altro video siamo di nuovo nel mio terrazzo per fare dei test e volevo farvi vedere la metodica dei guasti come ricercare un guasto quando si presenta appunto in un impianto d'antenna ebbene abbiamo praticamente un problema in questo impianto d'antenna tv dove la televisione non prende più nessun canale e qui dobbiamo capire come intervenire bene questo video è fatto soprattutto per i principianti che quantomeno sanno utilizzare il tester ma adesso faremo vedere anche come posizionare il tester proprio per far vedere come risolvere eventuali problemi in un impianto d'antenna tv bene la prima cosa ovviamente procurarci il nostro famoso tester dobbiamo posizionare il tester su 9 scusate su volt continui quindi tensione continua il simbolo della tensione continua è una linea sotto continua e poi delle punteggiature mentre per capire la tensione alternata è questo simbolo sempre v ma con l'onda sinusoidale quindi dovete andare su questo linea continua e posizionarvi su 20 perché dobbiamo cercare la 12 volt dell'alimentatore ebbene andiamo a posizionare ovviamente poi il puntale nero su com e il puntale rosso su vd volt una volta fatto questo io posizionerò il tester sopra l'amplificatore cercando di stare attento e adesso dobbiamo andare a misurare la tensione ai capi di della discesa la discesa è contraddistinta da più cc quindi l'alimentazione che arriva all'amplificatore dobbiamo mettere il nero sulla calza sulla bassa e il positivo il rosso sulla ma centrale guardate arrivano 9 volte 62 quindi significa che c'è un problema perché ovviamente non arrivando 12 volt l'amplificatore non riesce ad amplificare il segnale dell'antenna ricevuto quindi dobbiamo capire dove sta il problema una cosa che vi consiglio sempre prima di intervenire in qualsiasi modo per chi ovviamente lavora nel settore delle antenne ma chi anche vuole cimentarsi su questo lavoro portatevi sempre un alimentatore in più perché è sempre importante fare appunto delle prove e capire dove viene il difetto perché perché adesso vi farò vedere una cosa importante io in questo caso lo strumento per verificare realmente qual è il problema guardate se vedete i canali non funzionano bene non si prende bene il canale a volte si prende a volte no se vado a misurare il segnale è molto debole vedete quindi dobbiamo andare a capire dove sta il difetto adesso dobbiamo capire dove sta il problema perché molti possono pensare che sia l'amplificatore guasto ma può capitare anche che sia un problema del cavo di discesa o dell'alimentatore quindi cosa si fa in questo caso si prova a staccare il cavo di discesa per verificare l'esatta attenzione adesso vi faccio vedere una cosa è così vi spiego un altro problema che può presentarsi bene vogliamo misurare adesso la tensione mettiamo sulla calza negativo e il positivo vedete abbiamo una tensione addirittura che supera i 12 volt questa è un'anomalia pure perché non è in realtà non dovrebbe salire oltre i 12 volt e quindi questa cosa mi dà da pensare che non è l'amplificatore anche se sembra in questo caso l'amplificatore ma bensì potrebbe essere l'alimentatore perché abbiamo visto che il cavo è integro perché se non era integro potevamo avere la stessa tensione quindi 9 volt o quello che sia praticamente o addirittura zero e e quindi cosa si fa una volta accertati che abbiamo questa tensione elevata il consiglio è portatevi sempre un alimentatore in più con voi per poter testare appunto poi alla fine con un altro alimentatore se il problema viene risolto adesso andiamo a sostituire l'alimentatore e vediamo cosa succede bene abbiamo sostituito l'alimentatore adesso lo andiamo a verificare ovviamente sempre prima di collegarlo se ci sono le tensioni abbiamo 11,81 vedete questo già è un alimentatore che funziona perfettamente andiamo a collegare adesso direttamente sull'amplificatore stringiamo le viti e verifichiamo se abbiamo ancora la stessa tensione all'incirca anche se qualcosa più bassa perché ovviamente ci sarà un po di assorbimento però non dovrebbe scendere sotto gli 11 volt vedete abbiamo 11,70 quindi significa che non è in questo caso l'amplificatore guasto ma bensì era l'alimentatore se infatti andiamo a vedere adesso nel nostro strumento abbiamo praticamente una buona ricezione del segnale e ovviamente la televisione adesso si vede vedete che ci sono anche le immagini allora come dicevo praticamente non sempre può essere l'alimentatore guasto ma a volte potrebbe essere sempre l'amplificatore però la metodica di ricerca dei guasti è sempre la solita si sale sul tetto la prima cosa di prima di salire sul tetto si va sull'alimentatore del del magari è posizionato di solito dietro il televisore o dentro una cassettina si guarda se c'è tensione di alimentazione il led si è acceso si è acceso allora si sale sopra il tetto e si verifica se sulla discesa ci sono praticamente 12 volt se ci sono 12 volt probabilmente al 90 per cento è un problema dell'amplificatore o dell'antenna che magari non è posizionata correttamente se invece non abbiamo i 12 volt ma abbiamo addirittura 9 8 o addirittura anche 0 staccando il cavo dovremmo controllare appunto con cavo staccato se abbiamo la stessa tensione se abbiamo sempre 9 volt 8 volt o 0 volt significa che c'è un guasto o sul cavo oppure direttamente nell'alimentatore quindi si scende giù dove c'è l'alimentatore si stacca la discesa e si controlla se effettivamente la tensione è salita nell'alimentatore oppure no se non è salita si sostituisce l'alimentatore si collega di nuovo il cavo e si ripristina tutto qua sopra in modo da avere di nuovo i 12 volt se abbiamo 12 volt abbiamo risolto il problema se invece non ci sono ancora vuol dire che c'è un problema anche nel cavo che ha causato il guasto anche nell'alimentatore quindi Grazie.